Le fiamme gialle di Nocera Inferiore hanno effettuato un controllo in un circolo ricreativo di Pagani, dove erano detenuti svariati pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pronti per essere immessi in vendita. Il responsabile è stato segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.